Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua. Sempre con l'amico Ezio, è venuto a trovarmi oggi, vedo gli abeti, guardate qua. Grazie a tutti. Spettacolo ragazzi, spettacolo, spettacolo della natura. Spettacolo. Bellissimo. Bellissimi. Andiamo sempre con l'amico Ezio qua. Pendenze ragazzi incredibili, posti fantastici come al solito, bello, bello. Guardate che bestia, adesso ci avviciniamo. Mamma mia che funghi. No, ma non puoi capire il gambo che ha. No, no, veramente, è una cosa assurda Ezio, assurdo, assurdo. Andiamo a fare attenzione. Viene via. Frittura. Ragazzi, guardate che roba. bella, 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 vedi? Vai. bella, 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 bella. Ofere. Forze. Viola. Viola. perché vedi che sotto è bagnato ah che bello bello ragazzi cin cin salute ecco ragazzi guardate che roba mamma mia siamo saliti un po di quota adesso incominciano questi belli perfetti guardate che roba guardate che roba oh che funghi mamma mia che belli guarda lì grandezio bravo bravo cap un bello stratino di foglie anzi sì e chi cazzo se ne va più di qua eccolo qua ragazzi e ci ho scatenato tipo i gechi la motta guardate che bello bravo appena appena uscito fuori bella 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 bello saluto agli amici del canale ciao amici ci vediamo presto molto presto molto presto ciao ragazzi che fungo che fungo che fungo abbiamo prenderlo quello là vediamo ok che fungo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate qua. Andiamo. Vieni, vieni. Lo seguiamo qua. Piano piano. Sembra di non pensarne altri. Una puntata di Voyager. Mamma mia ragazzi, ma che gambo, ma che gambo. Questi sono nati storti. Guarda questo, dove arriva il gambo. Guarda dove arriva il gambo. In piega. Allora, dove siete? Where are you, my friend? Gambi? Maria? Volevi la buttata? Eccola qua, la buttata. Guardate dentro. Guardate che roba. Guardate che roba. Guardate che roba. Felice? Felice, felice. Che figo, che figo. È una figata unica. bene ragazzi sono le otto e mezza e guardate qua che rova che funghi che funghi bellissimi belli 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 a tra poco ecco ragazzi bello poi gambini spaziali che bello bellissimo bellissimo lì allora ragazzi che ora è? 9.03 9.03 eccoci qua ragazzi guardate che bei funghi sono le 9 eh? questo è veramente una belva poi vabbè il padellone sano e poi guardate che funghi bellissimi belli 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 e c'è c'è il cesto pieno là è bravo eh zainone è ora che li pulisco tutti non pulisti solo 4 vabbè dai tu incominci a cercare io mi metto qua le pulisco poi partiamo ok qua si che ce n'è da pulire va vai 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 e chi c'è qua che bestia ragazzi bianco pulito guarda che roba guarda che roba gnocchi boh mettilo tu uno lo zaino perché io non si stanno buongiorno a tutti ragazzi allora oggi il giretto è finito ma abbiamo fatto un tre orette sono le dieci e mezza eh? eh tanti funghi vedete la la tracolla come tira lo zaino anche e anche Ezio ne ha trovati siamo in Piemonte non in Val d'Aosta in uno degli unici posti dove ha piovuto eh? abbiamo avuto questa dritta che una settimana fa ha fatto due giorni di pioggia e quindi bei funghi bella giornata eh una figata